Quanto ho speso per girare tutta l'Europa, cioè 20 paesi, fare quasi 20.000 km per 4 mesi, per l'esattezza 112 giorni, con un van? In questo video ti dirò i paesi che ho girato, quali sono state le spese e poi alla fine del video vi dirò il totale complessivo e il totale giornaliero. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Vans with Fun, io sono Ale, alias Mastro Marmotta. Oggi, come vi dicevo, voglio parlarvi del Giro d'Europa che ho fatto con la mia ex nel 2018. E sì, ci ho messo un po' di tempo a rimettere insieme tutti i dati, però oggi voglio parlarvi proprio nel dettaglio di quanto mi è costato girare in questo minivan, che ho un Opel Vivaro che mi sono camperizzato da me. Vabbè, chi mi segue da un po' lo conosce già bene e per quelli nuovi trovate sul mio canale tutti i video di come l'ho camperizzato e di come è fatto, eccetera. Metto i link qua sopra comunque. Una cosa che vi chiedo è di iscrivervi al canale per chi non l'avesse ancora fatto e di mettere un mi piace a questo video. Così per supportare il mio lavoro e farmi capire che vale la pena continuare a fare questi video. Ho anche in giù il pollice se non vi è piaciuto. Prima di tutto vi faccio un riassuntino. Allora, le spese le ho indicate in maniera precisa, al dettaglio. Ogni spesa che ho fatto che sia stato andare a prendere uno shampoo o una cosa, qualsiasi cosa, sono state segnate tutte. In un video precedente vi avevo dato una stima, però era un pelo sottostimato, ma anche perché questa volta ho inserito veramente tutto. Anche il bollo, l'assicurazione della macchina, telefoni cellulari, tutto, tutto, tutto. Allora, detto ciò, il viaggio come vi dicevo è durato quasi 4 mesi, per l'esattezza 112 giorni, iniziando l'8 luglio e terminando il 27 ottobre 2018. Le spese ho fatto un foglio Excel e anzi è una cosa che vi consiglio e vivamente quando viaggiate, quando girate, segnatevi quanto spendete perché vi rendete conto veramente dove vanno i soldi. Perché pensi di aver speso molto meno, ma in realtà i soldi scompaiono e finiscono più velocemente di quanto tu possa pensare. Voi commentando qua sotto potete dirmi se secondo voi è troppo, troppo o poco, se l'avete fatto anche voi e nel caso quanto avete speso. I paesi che ho girato sono stati, siamo partiti dall'Italia, quindi abbiamo fatto il giro in senso anti-orario. Partendo dall'Italia, per chi non lo sapesse io sono di Rovereto, Trentino, e siamo andati direttamente in Austria. Passando poi per l'Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca, quindi facendo un giro così. Tra l'altro abbiamo toccato anche il sud della Polonia per poi riandare in Germania, poi Polonia di nuovo, per poi arrivare in Lituania, Lettonia, Estonia. Qui ovviamente abbiamo preso il traghetto verso nord, abbiamo saltato quell'angolino prima della Lituania perché fa parte della Russia e quindi lì sarebbe servito un visto turistico che bisognava chiedere al consolato, avere dietro i passaporti, comunque un costo eccetera, quindi abbiamo optato per saltarlo. Dall'Estonia poi abbiamo preso il traghetto fino a Helsinki in Finlandia, al sud della Finlandia, il traghetto non ci ha messo tantissimo. Tra l'altro dove abbiamo comprato le birre perché è tax free visto che la Scandinavia costa veramente, 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 veramente tanto. Tra l'altro anche in Polonia avevamo fatto una mega spesona perché su ci hanno detto che costa tanto. Ed effettivamente è vero, quindi un consiglio. Poi magari farò anche dei video se vi possono interessare, dedicati proprio al giro, ai vari paesi, alle varie differenze eccetera. Ma questo è dedicato alle spese. Poi da qua abbiamo girato tutta la Finlandia per poi andare fino a Caponord. Mi hanno fatto Norvegia, poi siamo scesi dalla Svezia. E poi, cosa c'è, attraversato anche lì ponte e tunnel per arrivare in Danimarca. Quel ponte è fighissimo che poi finisce dentro al mare. E poi un altro che comunque il costo anche dei traghetti in Norvegia e anche di questi ponti e alcune gallerie sono abbastanza elevati e vanno anche ad incidere. Per poi scendere dalla Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Portogallo, mi ha fatto tutta la costa. Poi Spagna, Spagna, Francia di nuovo, Svizzera per poi rientrare in Italia. Quindi questo qua è un totale di 20 paesi. Il totale dei chilometri che abbiamo fatto sono 19.795 chilometri in tutto con un consumo di 1.685 litri. Allora, questo qua è un Opel Vivaro, è un 2000 turbodiesel. Quindi solamente di gasolio abbiamo speso 2.286,5 euro. Che è stata la spesa, diciamo, maggiore, più influente del viaggio. Che vuol dire la benzina, cioè il diesel, abbiamo pagato una media di 1,36 euro al litro. E per una media chilometrica, euro, chilometri, di 12 centesimi al chilometro. Qui ovvio, c'erano dei paesi come la Spagna, sembra, qua ho segnato tutto, dove il costo era basso. Era sotto l'euro e venti. Calcoliamo adesso siamo nel 2021. Nel 2020 si sono abbassati tanto causa pandemia. Ma comunque, quando sono partito dall'Italia, il costo medio era 1,5 euro al litro. Quindi, diciamo, la media di 1,36 euro. Sicuramente il carburante, come vi dicevo, incide tantissimo nei costi. Però, se uno vuole viaggiare, diciamo, ad ora vuoi viaggiare in van per farlo andare. E questo è l'unico modo. E poi, ovviamente, se uno volesse risparmiare e star via comunque altrettanto tempo, si può benissimo fare. Ma risparmiando anche meno, meno della metà. Perché se qui il costo di 2.200, risultato una media di 20 euro e 41 centesimi al giorno. Ok? Quindi, ovviamente, se uno volesse viaggiare di meno, risparmierebbe 20 euro al giorno. Magari viaggi meno. Ma il nostro obiettivo era veramente girare tutta l'Europa il più possibile, arrivare fino a Caponord e poi arrivare fino in Portogallo. A Caponord, nella zona della Scandinavia del Nord, eravamo intorno ad agosto. E quindi abbiamo avuto la fortuna di riuscire a girare intorno a settembre-ottobre Spagna e Portogallo per goderci ancora il caldo. Ah, tra l'altro, per chi non lo sapesse, ci sono delle app che trovate cercando, tipo costo benzina, costi carburanti, eccetera. Delle app che vi indicano sulla mappa il costo della benzina nelle varie zone. Perché magari siete in una zona un po' dispersa, ma facendo anche un centinaio di chilometri, riuscite a trovarla a molto meno. Ovviamente non li fate apposta per andare dal benzinaio, ma se è sulla vostra strada più o meno, potete fare 5-10 litri per arrivare in questo luogo e poi lì fare il pieno. Anche perché su un mezzo come questo, che ha una capienza, un serbatoio di 90 litri, incide parecchio, diciamo. Detto ciò, altri costi, abbiamo 22 euro di abbigliamento che consistono in questo berrettino, o forse un altro, vabbè comunque, un cappellino e altre veramente cose mini. Poi, spesa di docce. Allora, chi ha visto come ho camperizzato il van sa che avevo costruito per quel viaggio una doccia a tubo sul tetto, molto utile, molto comoda, che ci ha permesso di lavarci praticamente tutti i giorni. E quindi la spesa totale delle docce è stata di 5,50 euro in 4 mesi, in 112 giorni, che vuol dire 0,05 euro al giorno, cioè 5 centesimi al giorno. Questo perché? Perché dove le facevamo le docce? Le facevamo col van, cioè con la doccia a tubo del van. Quando era freddo freddo, specialmente in Norvegia, magari non la facevamo tutti i giorni, però si scaldava una bottiglia dell'acqua e ci si docciava velocemente. Comunque trovate anche un video sul mio canale di metodi alternativi alla doccia, comunque come lavarsi in van e mantenere una certa igiene. Poi siamo andati in autogrill, che è normale, e siamo andati una volta in Norvegia, docce calde del porto, bellissime, e un'altra volta in autogrill in Francia, dove mi hanno speso, mi ricordo, 50 centesimi e un euro, una cosa del genere. Comunque la spesa è stata questa. Io ho, vabbè adesso voi siete posizionati sulla mia cucina, e ho un fornelletto della camping gas a due fuochi con una bombola da 3 kg. Il costo del gas è stato di 64,40 euro. Perché? Perché noi abbiamo avuto un problema, che è stato il fatto di esaurire la bombola in Norvegia dopo un mese e mezzo di viaggio, e non essere in grado di ricaricarla. Perché non è come i camper che hai l'impianto collegato direttamente al van, che quindi dove lo caricano per andare ti caricano anche la bombola, ma una bombola diversa. Non avevamo anche la possibilità di swaparla, cioè di far lo scambio, perché non ce n'erano gli uguali, e non avevamo la possibilità di caricarla, perché in molti paesi non caricano le bombole del gas. I posti dove siamo, dove avevamo trovato un ragazzo che ci avrebbe caricata, ci ha detto che non aveva l'adattatore italiano, quindi serviva da italiano a tedesco, che abbiamo comprato per caso una volta a 7 euro, infatti la cosa più utile che ho nel van, però dopo non riuscivamo più a trovare dove caricarla. Fatto sta che dalla Norvegia siamo riusciti a ricaricare la bombola in Portogallo un mese dopo, e per un mese abbiamo cucinato questo fornelletto della Campingaz Mini e le latte, diciamo, piccoline, le bombolette. Il problema di queste bombolette è che sono grandi così, quindi poco capienti, e costano abbastanza, sono quelle, diciamo, che trovate al Decathlon, che costano fra i 5 e gli 8 euro l'una, diciamo, più o meno. Fatto sta che questo ha alzato tanto i prezzi, perché dopo per riempire la bombola da 3 kg, calcolate che abbiamo speso 9 euro o 13 euro, una cosa del genere. Allora, quindi 64 euro di gas, che vuol dire 58 centesimi al giorno. Il bucato, un'altra cosa da tenere in considerazione, solitamente lavavamo le cose e quando ne avevamo la possibilità, in un catino, in una bacinella, quindi utilizzando l'acqua della doccia o quella del rubinetto, per poi stenderle con le cavi attaccate qua dentro, oppure se eravamo fermi da qualche parte, li stendevamo per farli asciugare. Altrimenti di lavanderie a gettoni, che sono molto comode, specialmente poi l'asciugatrice, così puoi lavare, asciugare e riporre tutto negli armadi. In totale abbiamo speso 15 euro e 38, che sono 14 centesimi al giorno, anche questo molto poco. Manutenzione 46 euro, diciamo come manutenzione c'erano dentro anche le camere d'aria della bicicletta da cambiare, ci si erano rotte in Portogallo, non so, un sensore o una cosa del riscaldamento che costava altri 20 euro, però diciamo piccole cose, poi abbiamo preso delle assi, qualche attrezzino, ma nulla di che. Quindi qua 46 euro, per 112 giorni sono 42 centesimi al giorno. Pedaggi. L'obiettivo, il giro d'Europa, l'abbiamo fatto senza fare autostrade, diciamo, perché non volevamo pagare pedaggi, ma ci sono alcuni pedaggi e qua rientrano anche i traghetti, che sono obbligatori. Le specie maggiori le abbiamo avute in Scandinavia, perché ci è costato il tranghetto per arrivare da Tallinn, Tallinn, Helsinki, e poi appunto anche il ponte in Danimarca, che costava solo quello 50 euro, e poi alcuni ponti ed alcuni tunnel che ci sono in Scandinavia, dove ti viene semplicemente fotografata automaticamente la targa, e poi ti arrivano un mese dopo quello che è direttamente a casa il totale dovuto. Altrimenti anche per alcuni traghetti, quindi diciamo che questi sono stati i nostri pedaggi e calcolate che non volevamo pagare pedaggi, quindi vabbè la vignetta in Austria mi sembra l'abbiamo presa. E lì siamo finiti per sbaglio in autostrada, vabbè, piccola parentesi, e vuol dire 211,52 euro, che sono 1,89 euro al giorno di pedaggi. Poi ho inserito anche costo telefonico, eravamo in due, quindi due telefoni per quattro mesi, e 114 euro, che sono 1,02 euro al giorno. Calcolate, faccio in due, comunque in due sicuramente si risparmia un sacco, perché ogni cosa, cioè si dividono i costi ovviamente, però a livello di spesa alimentare non cambia in maniera esagerata. E poi uno degli ultimi punti di turismo, 62 euro e 20 centesimi, divisi 112 giorni sono 0,56 centesimi al giorno. Anche qua di turismo abbiamo cercato di visitare il più possibile, ma di evitare di andare in tutti i musei, in tutte le cose a pagamento che si trovavano in giro. E infatti questi qua sono quelli proprio che ci tenevamo. Alcuni musei, alcune cose, alcuni veramente posti che abbiamo ritenuto importanti da visitare. È comunque una spesa limitata, ma questo fa prestissimo a salire come costo. Anche qua, per chi non lo sapesse, prima di andare a visitare un posto, cercate sempre online, ci sono sempre, magari anche in inglese o nella lingua del luogo dove siete, vari consigli. Perché come ad esempio noi in Spagna, per andare a visitare, non mi ricordo cosa, abbiamo scoperto che tipo il martedì mattina, dalle 8 alle 9 del mattino, dalle 7 alle 8, l'entrata era gratuito, costava un euro, contro i 15 euro del costo fisso del biglietto. Quindi calcolate che comunque il nostro viaggio è stato un viaggio low budget, cioè meno di così era difficile spendere. Perché anche come extra noi abbiamo speso 828,80 centesimi di extra. Come extra abbiamo inserito le colazioni, i pranzi e le cene fuori, che sono state veramente limitatissime. Poi anche magari qualche souvenir, poi quando magari incontravamo qualche amico in giro, uscire fuori, però cercavamo veramente di non andare in giro a bere e mangiare, perché sparo su tanto. Quindi anche adesso riguardando, dico, sono tanti 828 euro, perché sono quasi 1000 euro, però divisi al giorno sono 7,40 euro. Poi abbiamo inserito i gelati, il souvenir appunto, birre. Sì, diciamo poi anche quando siamo andati a surfare il noleggio della tavola. Però veramente abbiamo cercato di ridurre al massimo i costi. Poi, campeggio. Come sapete io sono un amante del campeggio libero e questo è quello che abbiamo fatto. Quindi spesa di campeggio libero 0 euro, perché abbiamo fatto solo campeggio libero senza mai un problema. E anche questo ti fa risparmiare veramente tanto, perché meno di 20 euro per due persone per un van è difficile trovare. Quindi avrebbe alzato il costo di veramente, di almeno altri 2-3 mila euro. Poi appunto, come vi dicevo, di carburante sono 2.286 euro, che fa un totale di... 4.536,67 euro, che corrispondono a 40,51 euro al giorno, cioè 20 euro a testa in due. Poi ho voluto anche fare un altro calcolo, che è proprio più totale, aggiungendo anche il bollo e l'assicurazione. Io di bollo pago 217 euro, che sono 59 centesimi al giorno, assicurazione pago 350 euro, che sono 96 centesimi al giorno, per un totale complessivo della vacanza di... 4.710,65 euro, che corrispondono a 42,06 euro. Cosa ne pensate? Pensate di spendere di più o di meno? Secondo me è una cifra che ci sta, ma per il fatto di aver viaggiato tanto, se pensate a un qualsiasi viaggio che voi decidiate di fare, solamente di ostello, albergo o quello che è, spendete più di questa cifra al giorno. In più i trasporti, in più uscire, in più veramente qua, c'è riuscita a visitare tutta l'Europa, fermarsi dove ci pareva, guardare quello che volevamo fare, senza toglierci nulla, ok? Avremmo potuto magari andare di più a mangiare fuori, però anche qua tornavamo da un anno in Nuova Zelanda, qui avevamo girato per sette mesi in van, anche di questo forse magari vi parlerò in un altro video, e quindi abbiamo cercato di abbattere i costi il più possibile, perché è una cosa che volevamo fare prima della stagione invernale, visto che io faccio il maestro di sci, poi, ripeto, sul mio canale trovate anche un video in cui vi parlo di come ci si guadagna da vivere, come si fa a viaggiare in van per così lunghi periodi. Detto ciò, spero di avervi detto tutto, tra l'altro vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube e mettere mi piace se vi è piaciuto questo video, o non mi piace se non vi è piaciuto, o in caso ditemi come l'ha pensata, avreste speso di più, speso di meno, quanto spendete voi anche a casa, al giorno, calcolando anche l'affitto, gli extra, eccetera, per vivere. Questo è tutto dal mio van, vi mando un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao!